Hey, bentornati su Breaking Italy. C'è un video di cui dobbiamo parlare, pubblicato il 5 ottobre su YouTube da un ragazzo cinese che si fa chiamare Guan Guan, che per quanto mi riguarda ha fatto una cosa coraggiosissima e molto poco comune, visto anche quello che potrebbe succedergli adesso. È andato in diverse città della regione cinese dello Xinjiang a filmare quelli che sembrerebbero a tutti gli effetti dei centri detentivi sparsi in diverse città, dove, secondo tantissime nazioni e organizzazioni internazionali, sta avvenendo da anni una repressione sistemica e violenta, che alcuni chiamano persino genocidio, nei confronti degli uiguri, una minoranza musulmana e turcofona originaria appunto dello Xinjiang, un territorio che si trova qui. Ne abbiamo parlato moltissimo. Questa tesi è ovviamente negata dal partito comunista cinese, che continua a sostenere che quelle strutture siano campi di lavoro finalizzati a combattere l'estremismo religioso e il separatismo uiguro e a favorire il reinserimento della minoranza nel mercato del lavoro. Quindi, cosa si vede nel video e che implicazioni potrebbe avere? Pare che il filmato sia stato girato nel 2020 e il vlogger dice espressamente di essere stato mosso primariamente da un'indagine pubblicata dalla compagnia statunitense BuzzFeed, che indicava l'ubicazione di alcuni dei campi in questione. L'indagine, di cui abbiamo peraltro parlato l'anno scorso, è immensa. Sono cinque diversi articoli e attraverso la raccolta incrociata di immagini satellitari, varie interviste a persone precedentemente detenute, eccetera, si era costruita una tesi ben documentata. Cioè che in particolare dal 2017 il governo cinese abbia accelerato notevolmente la costruzione di questi recinti detentivi, costruendo nel giro di tre anni più di 260 strutture, almeno una per quasi ogni provincia della regione, e dando così luogo alla detenzione di minoranze etniche e religiose su più vasta scala dalla seconda guerra mondiale, ad oggi. Benissimo. Siccome nella regione è rarissimo che vengano fatti entrare cronisti occidentali però, e i pochi soltanto in zone controllate, sotto stretta osservazione, Guan Guan si è detto e se ci andassi io, fingendo di essere finito nella zona per caso? E infatti nei video il ragazzo fa proprio quello, utilizzando sia le mappe del motore di ricerca di Baidu, che sarebbe il corrispondente cinese di Google, diciamo, sia altre mappe quando le strutture in questione curiosamente non comparivano su Baidu. Quindi prese direttamente le mappe, intendo, dall'inchiesta comparsa su BuzzFeed. Quello che emerge, oltre a numerosissime strutture super inquietanti, spesso e volentieri con filo spinato nelle mure esterne, telecamere, sbarre le finestre, è che l'indagine di BuzzFeed aveva effettivamente presunto cose vere. Come ha detto al Deutsche Welle Alison Kierling, uno dei tre autori degli articoli, avere delle registrazioni video così chiare e immediate delle strutture in questione è sicuramente molto più significativo che affidarsi a terze fonti come ad esempio Mapbox, che vende le mappe generiche per uso web. E secondo un avvocato per i diritti umani uiguri, il video completamente senza censura, è un altro pezzo del puzzle che smonta un po' l'immagine teatrale e disinformativa che il governo cinese vuole dare dello stesso Xinjiang. Vi ricorderete infatti che la Cina ha promosso tutta una serie di video pubblicati su YouTube, che nella Repubblica Cinese è bannato, quindi ovviamente con il fine di raggiungere gli occhi occidentali, esattamente come questi video di Guan Guan, che non sono certo fatti per un pubblico cinese, e in questi video erano rappresentate famiglie uigure nelle loro case, con i loro bambini, che si dicono felici e spensierate. Delle robe oscene, palesemente pilotate, che avevamo visto assieme l'anno scorso, vi ricordate? E che non posso più mostrarvi, perché YouTube fortunatamente ha rimosso tutto quanto. Tutto questo fatto, evidente, al fine di cercare di plasmare l'immagine dello Xinjiang fuori dal territorio cinese. Ora, vi sarete accorti che in questo periodo stiamo parlando di Cina più del solito, e infatti sto anche invitando al podcast un'esperta in merito, spero non vi siate persi l'annuncio di ieri. Perché c'è una questione che secondo me un po' sfugge, ed è in che modo si coniughino due cose che diamo un po' prescontate, come sempre diamo prescontata l'immobilità della realtà che conosciamo, che però è ciò che di meno immutabile esiste. Lo dicevamo anche l'altro giorno per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, vi ricordate? Sembra impossibile, come sempre ci paiono questioni lontane da noi, la guerra, il conflitto, i cambi di paradigmi, finché effettivamente quel cambio non avviene e diventa la nuova normalità. Applichiamo questo discorso alla Cina. Da una parte tendiamo tutti a dare per scontato che la Cina sia la superpotenza del futuro, crescita economica incredibile, inarrestabile, manifattura del mondo, un esercito sempre più forte, sviluppo di tecnologie che anno dopo anno si avvicinano a quelle americane, giapponesi, sudcoreane, che staccano l'Europa su vari fronti. E poi tanta gente, territori vastissimi, risorse naturali. E dall'altra diamo un po' per scontato che la Cina sia la Cina e faccia la Cina, quindi ne abbiamo parlato un secondo fa, campi di lavoro, bullismo nei confronti di vicine minoranze, un'opera di costante silenziamento delle minoranze e del dissenso interno. Il partito che praticamente ogni presente controlla ogni aspetto della vita dei suoi cittadini. Ecco, io non sono così convinto che queste due cose si coniughino perfettamente e possano perfettamente andare avanti così per sempre. Vi faccio un esempio. Il Business Insider si è accorto, e poi la notizia è stata ripresa da altre pubblicazioni, di una disposizione di martedì scorso dell'ufficio di amministrazione del cyberspazio cinese. Ora, cos'è? Ne avevamo già parlato in passato. È l'ufficio, spesso indicato come CAC dai media, che si occupa di far rispettare i dettami ideologici del partito sul web. E in passato lo avevamo citato perché controlla direttamente il famoso fondo di investimento cinese su internet, da cui a loro volta dipendono aziende gigantesche come ByteDance, cioè quella di TikTok, e Weibo, il social network cinese. Ora, cosa dice questa disposizione che è emersa appunto l'altro giorno? Stabilisce, e potete consultare il testo integrale in cinese, ma può essere tradotto automaticamente e rimane più o meno leggibile, che sia le celebrità in Cina, che anche i gruppi organizzati, i fan club, pensate alle nostre pagine Facebook, debbano aderire a una sorta di codice di comportamento misto, a un codice, non so, morale, che mischia regole dirette a evitare comportamenti spiacevoli da parte delle comunità, anche robe comprensibilissime a tutta una serie di diktat molto precisi ai quali le celebrità in particolare devono attenersi. Ad esempio, devono evitare di veicolare messaggi non positivi, postare contenuti che possono far infervorare le persone, in qualche modo farle reagire di pancia a qualcosa, o ancora evitare di esibire le proprie ricchezze o stili di vita particolarmente stravaganti, in modo, si legge, da aderire meglio e promuovere i valori socialisti. Che è un messaggio affascinante, perché non si dice tu da celebrità non puoi arricchirti, visto che il sistema ibrido paracapitalista cinese verrebbe un po' giù, e allora si dice però non lo puoi mostrare, non si deve vedere per mantenere l'ordine. Ora, molte pubblicazioni stamattina si concentrano su quest'ultimo aspetto che è folcloristico e fa venire un po' meno il senso della celebrità sui social, no? Che mostra uno stile di vita che noi altri possiamo solo sognare. Ma la questione è che questa decisione è da inquadrare in una più ampia serie di decisioni politiche che cercano di mettere a tacere quello che in realtà è un pericolo per le leadership di governo. Cioè la rabbia dell'opinione pubblica, che certamente non può votare, e vive vite molto diverse da quelle occidentali, in cui la critica al governo è un giornaliero sport nazionale, ma rimane comunque un potere da tenere sopito. Avete presente Peng Shuai, no? Di Peng abbiamo parlato moltissimo in questo periodo, di come abbia denunciato un politico, poi si è scomparsa, poi ricomparsa, in modalità stranissime, e in tanti hanno detto, vabbè, ma ha denunciato un politico ormai in pensione, mica Xi Jinping. Chi se ne frega? Non potevano semplicemente spingere sotto un treno il pensionato e ciaone? E no, non si può, perché crei un precedente e metti a rischio non solo Zhang Gaoli, l'ex vince premier, ma tutto un apparato di potere che segue quelle stesse dinamiche. Cecilia Taneasio Ghezzi sulla stampa ha ad esempio ben fatto a sottolineare come la storia di Peng ricordi molto da vicino un tema, cioè quello delle enai, le concubine, giovani donne, finanziariamente dipendenti dal potente di turno, delle quali gli uomini di potere cinesi tendono a circondarsi. Questo, ad esempio, è un tema che non piace moltissimo alle femministe cinesi, per dire, e l'emergere di scandali di questo tipo peggiora il sentimento del paese in merito e mette a rischio tutto l'apparato di potere. Quindi, in conclusione, sì, la Cina fa la Cina, certamente, ma per quanto può durare questa cosa? La Cina censura tutto, fa sparire i miliardari, gli artisti, le atlete, è una cosa nota, vi lascio un documento che dettagliatamente spiega il modo con cui queste riconversioni di persone famose vengono effettuate, è un'inchiesta di una ONG. E non perché il governo sia forte e inflessibile, come vuole far credere, ma al contrario, perché per alcune cose è estremamente debole e teme di essere messo in crisi dalle persone famose. Quindi, chiediamoci, per quanto può andare avanti così la nuova superpotenza, inseguendo i suoi imprenditori, punendo le sue celebrità, silenziando il proprio opinion leader, prima che effettivamente questi trovino davvero la forza per reagire dal basso. Mi ha molto colpito la storia, lo scorso settembre, di un'altra attrice fatta sparire dal web, Zhao Wei, peraltro non si sa il perché, e mi aveva colpito che mentre in Cina veniva censurata, cancellata, i suoi film rimossi, era successo un casino, lei, anche se poi ha ufficialmente negato la cosa, sapete dove era scappata, a quanto pare? Era scappata in Francia con suo marito nelle tenute vinicole che possiedono vicino a Bordeaux. Quindi può essere che la Cina sia la grande superpotenza inarrestabile, eccetera, ma le sue celebrità non appena possono mettono il piede fuori dal paese e se ne vanno da un'altra parte. Può durare. Detto questo, voltiamo pagina e andiamo a occuparci di altre parti del mondo, ma prima vi dico due cose, anzi tre. Uno, se la puntata di oggi viene pubblicata, io faccio festa, mi ubriaco perché non avete del casino dietro le quinte. In altri tempi questo sarebbe stato un mese di alpaca. Due, ieri abbiamo annunciato la prossima ospite del podcast, spero non vi siate persi l'annuncio, e tre, e so che molti di voi sono interessati e stavano aspettando, anche quest'anno sono arrivati i Christmas Box di Heia. Cosa sono? E cosa è Heia? Beh, almeno la seconda lo sapete, sapete cosa sia Heia? Lo sapete? Comunque, se non lo sapeste, Heia è un brand abbigliamento che ho fondato nel 2015. Non nel senso di vendo i design a qualcuno e ce li stampa, ma nel senso di mi compro dei macchinari, degli spazi, assumo gente, faccio tutto un casino per provare a mettere in piedi da zero un brand abbigliamento. Che sarà mai? Sarà così difficile? E comunque per ora siamo ancora in attività. I miei obiettivi di fare una cosa un po' diversa, promuovere il folklore sardo senza però renderlo così palese, sognando un giorno di avere una ricaduta enorme sul mio territorio, quando saremmo giganteschi e primi sponsor del tagliari calcio, per ora, per ora, tengono, in piccolo, però ci sono. Aiuto. Quindi, sotto Natale, ogni anno facciamo questa cosa qui, cioè le box di Natale. Andando sul sito heiastore.com è possibile acquistare delle confezioni regalo, ce ne sono di vario tipo e contengono varie cose. Magliette, felpe, berretti, poster, scegliete un po' voi. E in ogni box c'è anche una borsa shopper unica, con un design che non si può tenere in altro modo e non proporremo mai più, e il cappellino di Babbo Natale Nero. Quello è molto importante, ormai sono anni che pretendo che sia inserito nei box di Natale. Sono in numero limitato, ovviamente. Quindi, se foste alla ricerca di un'idea per un regalo di Natale, cercate il link in descrizione o andate su heiastore.com. Spostiamoci e facciamo la spola tra l'America centrale e l'India, oggi viaggione, e per farlo usiamo quello che sta succedendo a El Salvatore e India, per fare un discorso sugli approcci radicalmente differenti che le due nazioni stanno adottando nei riguardi della formazione sempre maggiore delle criptovalute, che in genere riflettono l'incertezza praticamente planetaria su come si evolveranno le valute digitali. Quindi, che succede a El Salvador? Ricorderete che lo scorso giugno aveva fatto molto scalpore l'approvazione della legge promossa dal presidente salvadoregno, Bukele, eccolo qui, di rendere i bitcoin valuta concorso legale in tutto lo Stato. Che vuol dire? Banalmente che da settembre scorso, quando la legge è entrata in vigore, i bitcoin sono riconosciuti come metodo di pagamento ufficiale che non può essere rifiutato quando viene proposto, al pari delle monete metalliche o delle banconote cartacee. Bene, la legge era stata promossa da Bukele come un modo di dare una spinta allo sviluppo economico del paese e anche all'aumento di posti di lavoro, eccetera. E da subito io avevo commentato che più che una cosa seria mi sembrava un tentativo di finire sui giornali. E in generale le cose non sono andate esattamente lisce. In seguito all'approvazione, infatti, c'erano state delle proteste, anche piuttosto accese, con la gente che dava fuoco agli ATM dei bitcoin, più o meno simili agli spotelli Bancomat, con obiezioni sul fatto che la criptovaluta avrebbe facilitato operazioni di riciclaggio di denaro e di evasione del fisco, oltre ad essere di base una moneta ad alto rischio di volatilità, che significa banalmente che il suo valore cambia e fluttua molto nel tempo. Ed è per questo che se alcuni considerano effettivamente il bitcoin e le altre cripto delle monete, altri invece hanno dei dubbi. Bukele, che di suo un personaggio abbastanza controverso, l'anno scorso per dire ha mandato dei soldati all'assemblea legislativa per convincere il Parlamento ad approvare una richiesta di prestito agli Stati Uniti, e lo scorso maggio ha deposto vari giudici della Corte Suprema Critici del suo governo, un gesto che è stato considerato quasi un golpe, ha deciso di rilanciare e far parlare ancora di sé, annunciando di voler costruire una città. E voi direte, che città? Una città rotonda, a forma di bitcoin, perché il mondo è in balia dei megalomani. Ah, e vuole costruirla vicino a un vulcano. Così cosa ci chiediamo? Come mai la gente non prende sul serio le criptovalute? Magari la colpa è di Stotizio, anche. Per la precisione, il presidente Salvador Regno si riferisce al vulcano Conciagua, che si trova qui, nella regione della Union, e la cosa è perlomeno suggestiva, perché poi sulla fattibilità dell'intero progetto io non so niente, sinceramente sono un po' scettico. Ma l'idea è che, lo saprete bene, lo avevamo detto, una delle critiche che vengono mosse al mining delle criptovalute, cioè al processo di estrazione virtuale, è che sia estremamente oneroso da un punto di vista energetico, ragion per cui Bukele vorrebbe usare l'energia geotermica per alimentare quel processo. Tutto, nei piani del leader quarantenne, sarà votato al bitcoin e pagato quei bitcoin, con una stima di costi attorno ai 300.000 bitcoin, che se misurato al valore attuale della criptovaluta, si aggirerebbe sui 17 miliardi di dollari. Però oggi, perché essendo il bitcoin così volatile, potrebbe essere che il valore della criptovaluta tra due anni sia drasticamente diverso. Questa cosa non si fa, comunque. Ci scommetto un bitcoin, perché questa roba non si fa. Altrove, invece, l'approccio è stato diverso. E qui arriviamo all'India. Già a inizio anno, infatti, il governo era sembrato intenzionato a proibire sia le transazioni che il possesso stesso delle criptovalute. Ma ora pare che si stia arrivando a una vera e propria legge, che mirerebbe sia a bandire le cripto, ma solo quelle private. Cioè, mi riferisco a tutte le cripto esistenti in questo momento, tipo il bitcoin, per capirci. Però l'India, nel lato di renderle illegali, avrebbe pronta anche l'intenzione di produrre una propria valuta digitale di Stato, e quella rimarrebbe legale. Cosa che però fa un po' venire a meno il senso della cosa, in realtà. La notizia ha causato un certo scalpore, perché il mercato delle criptovalute è di base piuttosto prominente in India, e a guidarne la crescita sono principalmente i giovani. La cosa però è stata criticata dal primo ministro indiano Narendra Modi, che invece si focalizza sugli aspetti negativi di queste valute, che per altri sono invece la forza. L'anonimato e la decentralizzazione, che sì, possono ovviamente offrire dei vantaggi, ma si prestano anche a un uso criminoso, che manda in allarme i governi. E l'India non è certo la sola a pensarla così. Ricorderete che la Cina, a fine settembre, aveva dichiarato tutte le transazioni con le criptovalute illegali, presagendo anche in questo caso uno sforzo per l'adozione della propria valuta digitale. E sempre citando come motivazione il riciclaggio di denaro e le possibili frutti. Abbiamo quindi due facce della stessa situazione qui. Da una parte ci sono gli entusiasti, con El Salvador, sull'Olimpo delle cripto, e dall'altra gli spaventati, che tentano di limitare il più possibile la circolazione di questi strumenti. Comunque a El Salvador sta cosa non si fa. Io l'ho detto, veramente pochi dubbi in merito. Un bitcoin. Insultatemi nei commenti. Ultimo blocco, torniamo in Italia. Saprete come qui su Breaking Italy, e in realtà ovunque, io sei sempre stato molto vocale nel supporto a tutte le iniziative che mirino a una legislazione umana e dignitosa nei riguardi del fine vita. Ed è di questa settimana una notizia che fa ben sperare in merito, o perlomeno si può forse considerare un passettino avanti. Forse. Circa un anno fa, un uomo marchigiano, che chiameremo Mario, nome di fantasia che lui preferisce, ha fatto domanda alla ASL della regione Marche per poter usufruire delle procedure di suicidio assistito. Mario, infatti, che oggi ha 43 anni ed è tetraplegico da 10, ha esposto come la sua condizione sia ormai di continua sofferenza e preferisca poter usufruire del suo diritto a porre termine a quei dolori che continuare in una situazione ormai irreversibile. Ora, dopo più di un anno, il comitato etico della ASL marchigiana, che è un organo previsto per legge e che è chiamato ad esprimersi su appunto le questioni etiche relative, ad esempio, alla tutela dei diritti dei soggetti sottoposti a sperimentazione, per dirne una, ha risposto. Peraltro, dopo essere stato costretto dal tribunale di Ancona, visto che all'inizio si era rifiutato. E di questo pronunciamento, di questo comitato, si è parlato per giorni, perché il comitato ha rilevato una cosa importante. Cioè, che la richiesta di Mario di porre fine alle sue sofferenze rispetti le quattro condizioni particolari e necessarie che non sono state delimitate dalla sentenza della Corte Costituzionale nei riguardi di un altro caso simile molto noto, quello che ha visto protagonista DJ Fabo, affiancato nel suo percorso da Marco Cappato. Come ricorderete, la Corte Costituzionale si era espressa nel 2019 sull'accusa che era stata ammossa a Marco Cappato, da sempre molto attivo riguardo ai diritti del fine vita, che era stato accusato di istigazione al suicidio, secondo la base dell'articolo 580 del codice penale, in quanto aveva aiutato Fabiano Antoniani, DJ Fabo, ad andare a Zurigo per poter adempiere la sua volontà di suicidio assistito. Benissimo. La Corte aveva stabilito che la pratica di assistenza non è equiparabile a istigare qualcuno al suicidio, e che in determinate condizioni non è punibile. E queste determinate condizioni sono le stesse che il comitato etico della AS Marchigiana ha rilevato esistere anche nel caso di Mario. Queste condizioni erano legate a quattro fattori. Primo, che il paziente fosse tenuto a invitarli artificialmente solo da delle macchie. Secondo, che fosse soggetto a sofferenze fisiche e psicologiche irreversibili. Terzo, che fosse in grado di intendere di volere. E infine, il fatto che non esistessero altri metodi alternativi per alleviarne la condizione. O comunque che il paziente non ne volesse usufruire. Indirettamente quindi, ammetteva il suicidio assistito, ma lasciando il peso di determinare il come al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, il comitato etico ha deciso che queste condizioni sussistono. Ma lascia il peso di determinare effettivamente come e dove effettuare la procedura alla struttura sanitaria che eventualmente prenderebbe in carico il caso di Mario. E' anche sollevato dubbi sulle modalità da lui suggerite, sulle dosi del farmaco da utilizzare, dubbi che hanno portato la Regione Marche a precisare che sarà il Tribunale di Ancona a doversi di nuovo pronunciare sull'effettivo diritto al suicidio assistito di Mario. Sostanzialmente perché non esistono procedure standard. E perché non esistono? Perché non c'è una legge. Perché il lavoro del legislatore nel colmare questa voragine la stanno facendo altri. Tipo i tribunali. E come mai? Come fanno notare Cappato stesso e l'assessore alla sanità marchigiano, Filippo Saltamardini, proprio a causa della mancanza di una votazione da parte del Parlamento. Di una legge che definisca queste cose a tre anni di distanza dalla sentenza della Corte. E questo, ricordiamolo, solo nei riguardi del suicidio assistito. Nel caso dell'eutanasia, che penalmente estende la possibilità del fine vita anche a chi non può effettuare da solo la scelta materialmente, come nel caso di un individuo in coma, ad esempio, che abbia però precedentemente operato questa scelta, possiamo solo attendere di votare il referendum. A ottobre, ricorderete, sono state depositate più di un milione di firme per la proposta. Insomma, in attesa di poter votare, è bello vedere che le cose si muovono, anche solo poco poco. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, così non ve li perdete, io sono contento, lo dite alla mamma, al papà e agli amici. Vi ricordo ancora che il progetto è in realtà finanziato da un sistema di abbonamento, il Breaking Italy Club, quindi pensate alla possibilità di darci una mano in questo senso. Andate su breakingitaly.club, nel caso per saperne di più. Era tutto quello che avevo per voi per oggi, fate i bravi, e ci dovremmo vedere domani, se non sono morto.